andò parlavamo di cosce la moglie di pinucci d'andrea tu l'hai vista no il giorno che è arrivato mentre entrava nel portone ma quello pinucci tiene ragione quando la fa uscire a questo paese ma quando è arrivato non si parla che di lei come se fosse arrivata sua figlia e già perché a te sapere che dentro casa quel feste di pinucci tiene quel popò di biondo è cosa che non ti interessa ma batti ne va però il calcio che sapevano fare bene i baroni ecco ci hanno ricavato andiamoci a prendere una birra